Eccoci ragazzi, buonasera, bentrovati per questa seconda lezione breve di Avere e Essere il corso online che tengo qui nel gruppo, diamo il tempo a un po' di persone di entrare nella diretta intanto vi dico questo, che sto pubblicando questi brevi video, queste brevi lezioni anche su YouTube per chi vuole vedersene poi, più che altro per chi vuole ricevere le notifiche della nuova lezione perché Facebook ogni tanto nel gruppo fa vedere il video a poche persone, manda la notifica a poche persone invece su YouTube se vi iscrivete al canale e cliccate sulla campanellina in alto e decidete di ricevere tutte le notifiche ciao Gianluca, bentrovati, decidete di ricevere tutte le notifiche e vedrete che vi manda l'alert dei nuovi video allora, seconda lezione di Avere e Essere ieri abbiamo parlato di come in realtà uno degli obiettivi del lavoro che mi piace fare è quello di aiutare le persone a ottenere più risultati partendo da chi sono, partendo dalla loro identità, partendo da quello che gli piace fare partendo soprattutto dalle proprie risorse il punto è questo e ti davo anche un esercizio ti davo un esercizio è renditi conto, nota ogni volta, porta attenzione ogni volta che scendi a compromessi cioè tra scegliere se rimanere te stesso o avere qualcosa scegli la seconda cosa e quindi togli un pezzetto di te dall'interazione con l'altro dal risultato che stai generando allora, il punto è questo noi veniamo educati fin da bambini, fin da quando siamo molto piccoli che così come siamo non andiamo bene è un insegnamento che riceviamo fin da quando iniziamo ad andare a scuola molte volte anche prima quando iniziamo ad andare a scuola già lì dobbiamo scegliere tra ciò che ci piace fare che fondamentalmente è giocare a pallone nel cortile tutto il giorno e stare seduti in un banco a guardare e anche all'interno della scuola molto spesso abbiamo delle preferenze, delle attenzioni su delle cose che magari non sono materia di studio in quel momento e su cui naturalmente vorremmo portare la nostra attenzione che viene però rediretta su quello che è importante in quel momento che non è importante per noi ovvio che viviamo in un contesto in cui dobbiamo essere educati dobbiamo prendere buoni voti agli esami e tutto il resto però c'è un messaggio implicito in tutta l'educazione che riceviamo fin da quando siamo bambini e il messaggio implicito è che così come siamo non siamo abbastanza, non andiamo bene dobbiamo compiacere qualcuno prima di poter compiacere noi stessi allora io non sono un filosofo sono uno che si occupa di ottenere risultati di generare performance e negli ultimi 15 anni ho lavorato proprio nella direzione di capire anche dal punto di vista delle neuroscienze dei processi cognitivi cos'è che fa davvero la differenza per generare risultati in maniera coerente duratura profonda e in questo specifico argomento in questo specifico tema quello di scendere a compromessi è di partire da una posizione che nel resonance chiamiamo posizione inibitoria cioè mettere me stesso dopo ciò che interessa agli altri e ciò che ritengo debba essere più importante riguardo a quello che interessa a me che è un processo educativo a cui veniamo educati sin dall'inizio ci siano alcune il primo pezzo di limitazione delle nostre capacità delle nostre risorse allora l'esercizio di ieri era proprio quello di iniziare a renderti conto almeno quando lo fai di iniziare a renderti conto di tutte le volte che rientri in questo processo di dire no io sono meno importante di quello ogni volta che pensi che per ottenere qualche risultato debba scendere a compromessi debba rinunciare a ciò che interessa a te ciò che piace a te questo out out questa scelta in realtà non è una vera scelta ultimamente e non scendo nel merito assolutamente non scendo nel merito però dal punto di vista linguistico mi ha molto colpito nell'ultima settimana una frase di Draghi del Presidente del Consiglio Draghi che ovviamente è una frase simbolica si riallaccia cioè vuole dire molte altre cose rispetto a quelle che ha detto quindi quella frase che ha detto è molto rappresentativa di altri però c'è stata una frase che mi ha colpito molto perché semplicemente non è vera dal punto di vista comunicativo ed è dovete scegliere se se accendere i condizionatori quest'estate o se preferite i condizionatori o la guerra ecco che non è banalmente non è vero cioè non è una non è no è una finta alternativa no la mia domanda è stata ma si può avere tutti e due ovviamente dal punto di vista linguistico è sottolineato molto bene e crea una è ovvio che preferisco la pace rispetto ad avere casa fresca ecco noi a volte è come se in maniera diversa accettassimo una frase simile che in realtà all'interno del quale entriamo noi stessi in una finta scelta del genere cioè preferisco avere qualcosa portare portare il pane a fine mese a casa o preferisco essere me stesso non è le cose non stanno esattamente in questo modo quello che che insegno a fare ovviamente non è qualcosa che avviene dal giorno alla notte è di strutturare l'intero processo comunicativo decisionale di auto organizzativo di come sei nel mondo di come ti muovi nel mondo di come lavori di come agisci dall'inizio alla fine in maniera tale da non avere presente questa questa finta alternativa e da organizzare il tuo pensiero in una modalità completamente diversa e la domanda a cui insegno a rispondere e insegno la domanda che insegno a portare dentro nel proprio lavoro è proprio come faccio a generare risultati partendo un pochino di più ogni giorno da chi sono da come mi organizzo dai miei talenti dalle mie skill da quello che mi piace fare da quello che mi viene facile come coach o come insegnante come formatore di coach non sono certamente se mi conosci in questo canale te ne sarai accorto non sono certo un motivatore non faccio laizzatore di folle o non faccio camminare sui carboni ardenti non lavoro proprio su come le persone si organizzano internamente per generare i migliori risultati possibili per loro siamo tutti persone diverse non non impongo non insegno un metodo unico per tutti quello che faccio è permettere alle persone di trovare il loro modo specifico che sicuramente non è il mio non è quello di un mio cliente di un altro cliente di generare risultati mantenendo un pochino di più un po' più integra la loro essenza come dire la loro struttura e partendo da quella per ottenere più risultati la domanda che ti faccio oggi è questa quando è stato il primo momento in cui hai pensato o in cui ti è stato detto se lo ricordi ovviamente no? che così come eri non potevi andare bene cioè che così come come sei non era abbastanza dovevi come dire rinunciare tagliare cambiare delle cose di te per per delle cose di te non intendo dati del carattere intendo proprio ciò che va bene per te che ti fa stare bene quando è che ci hai rinunciato per perché ti era stato detto che se portavi avanti quella cosa lì non avresti potuto non avresti potuto prosperare avere risultati stare nel mondo come cittadino come essere umano come italiano in maniera in maniera ragionevole in maniera tale da essere accettato dal resto dal contesto dal resto della comunità quando è stata la prima volta in cui hai percepito questa cosa hai iniziato a tagliare via un pezzettino di te e poi da domani inizieremo a lavorare sul recupero di questa parte però ovviamente questo è un corso breve è un corso fatto di pillole di stimoli di riflessioni che non pretendono di essere esaustive ma vogliono darti una direzione voglio aiutarti a riprendere a trovare se non l'hai mai avuta una tua direzione e il resto lo faremo nel corso quest'estate o allo start del 5 giugno a Verona faccio questo di lavoro il corso dura 5 giorni 6 giorni c'è tanto tempo per lavorarci un giorno di una zona start inizia a entrare nel modello però ti assicuro che già con queste con questi spunti di riflessione puoi risvegliare e riaccedere a una modalità in cui ti auto organizzi ben formata che ti consente di di essere un po' più presente un po' più centrato e di ricorrere meno a trucchi a stratagemmi a compromessi e di essere nel mondo con un po' più di presenza di centratura e di capace di affermarti partendo da chi sei così come sei senza dover far finta di essere qualcos'altro che non sei questa è la riflessione di stasera e l'esercizio il breve esercizio il piccolo esercizio che voglio darti stasera ci vediamo domani per la prossima lezione di avere e essere questo video lo caricherò anche su su youtube fra poco in serata stasera c'è la lezione del corso del corso resonance per i partecipanti per la versione online per tutte le informazioni www.simonepacchiare.com ci vediamo prestissimo ci vediamo domani qui nel canale un abbraccio ciao ciao